Un'intervista straordinaria con Mei Pang. Chi è Mei Pang? È la fidanzata, la compagna di John Lennon. Fu con John Lennon per diverso tempo, per 18 mesi se non erro. E fu proprio Yoko Ono, che era all'epoca sua moglie, a, diciamo così, metterli l'uno nelle braccia dell'altro. Ora lei è protagonista di un documentario che si chiama The Lost Weekend, che è stato presentato al festival di Traibeca, new yorkese. ed è qui con noi. Mei Pang, grazie davvero per essere con noi in diretta da New York. Benvenuta. Grazie Veronica. Buongiorno a voi. Mi piacciono i tuoi capelli viola. Mei. Bella. Bella, ui. Grazie, grazie mille. Allora, torniamo indietro. Torniamo indietro nel tempo, alla storia raccontata anche nel documentario. E per tornare indietro, torniamo a questa canzone, Instant Karma, canzone del 1970. Qui si intravede anche Yoko Ono, bendata, che fa una performance. Tu, all'epoca a New York, eri la loro segretaria. Vediamo. Come and farmers gonna get you Gonna look you rather the face You better get yourself together, darling Join the human race I don't know what you're gonna see Grazie a tutti. Siamo nel 1973 e John Lennon e Yoko Ono sono in crisi e tu May racconti adesso in questa intervista a Viviana Mazza del Corriere che ringraziamo che fu Yoko Ono a venire da te dicendo John e io non andiamo d'accordo, comincerà a vedere altre persone e aggiunse tu non hai un fidanzato giusto? E tu May che cosa hai risposto? La mia risposta era che non ero interessata, lei ha detto sì lo so che non ti interessa ma credo che saresti perfetta per lui e io ero totalmente scioccata e continuavo a ripetere ma non è quello che voglio. Avevi 22 anni poi a un certo punto però le cose cambiano perché? Cosa succede? Credo che con il passare del tempo è stato poi John a venire da me ed è lui che ha cominciato a farmi la corte, non aveva idea che Yoko fosse venuta da me prima di lui e quindi per noi eravamo pronti a stare insieme. Ecco ma lo stesso John, cioè Yoko aveva parlato anche con John, cioè è lei che vi ha messo insieme e poi è ovvio tra adulti consapevoli tu avevi 22 anni lui mi sembra 32-33 insomma poco di più, comunque anche lui un ragazzo anche se una star mondiale, Yoko aveva parlato anche con John che tu sappia? John mi ha detto in un secondo momento che Yoko gli aveva detto te l'ho preparata io questa storia e lui ha risposto di cosa stai parlando? Non capisco e lei ha detto penso che dovresti uscire con me e lui ha detto cosa? Perché pensi una cosa del genere? E lei ha detto beh penso che sia una buona partner per te. Eh ma diciamo prima cosa John come ti corteggiò? Se non sbaglio la prima volta dopo che abbiamo lavorato insieme nello studio stavamo lavorando in realtà sull'album Mind Games e stavamo chiudendo lo studio stavamo per andare via e ad un certo punto stavamo aspettando l'ascensore e improvvisamente le porte si chiudono e lui si gira verso di me mi afferra e mi bacia e sono rimasta completamente scioccata stupefatta e mi sono allontanata ho detto non ti avvicinare stammi lontano perché davvero non capisco che cosa stia succedendo poi però ci siamo messi a ridere e credo di aver detto no 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 non succederà proprio nulla tra noi due e lui aveva questa smorfia da ragazzino impertinente che era riuscito a rubarmi il primo bacio. E siete stati insieme 18 mesi, tu ti sei innamorata di John? Sì assolutamente mi sono innamorata di lui. È stata una cosa che si è sviluppata nel tempo, è cresciuta nel tempo, io volevo bene come persona poi ero stata una loro dipendente per circa tre anni e quindi lo conoscevo abbastanza bene ma la situazione era cambiata e comunque all'inizio io non avevo nessun tipo di intenzione di stare con lui perché amavo il mio lavoro, mi piaceva fare quello che facevo, mi piaceva la musica ed era una cosa a cui non pensavo assolutamente. Lui è stato il tuo primo fidanzato? Ho letto da qualche parte. Sì è vero è stato il mio primo fidanzato e la prima persona con cui sono andata a convivere e con cui ho passato così tanto tempo. Come era come fidanzato, come era come partner, come amava John Lennon? Era come un ragazzino, anche se aveva poco più di 30 anni, ma era come se ne avesse poco più di 20 perché dove vivevamo a New York, a Los Angeles, in queste città dove abbiamo vissuto appunto, era la prima volta che ci andavamo insieme quindi facevamo tutte le cose per la prima volta come se lui non le avesse mai fatte perché d'altra parte quando era un membro dei Beatles era sempre controllato poteva solo andare da un punto all'altro con una macchina, andava da una stanza d'albergo all'altro oppure in uno studio di registrazione per lavorare. Stavolta invece eravamo solo io e lui, avevamo molta più libertà, potevamo andare a trovare degli amici, potevamo andare al ristorante io guidavo perché lui non lo faceva, è stato divertente. Ecco, ma tu non ti sei mai sentita usata? Cioè quando hai saputo che, diciamo, Yoko aveva parlato anche con John dopo aver parlato con te non hai pensato che, diciamo, vi aveva manipolato? Anche perché poi Yoko Ono se l'è ripreso? Sì, questo è vero, ma ricordiamoci che stiamo parlando dell'inizio degli anni 70 non è una cosa comune, anche lui era una persona totalmente fuori dal comune lui stesso non sapeva cosa fare, quindi non c'era niente di pianificato non è come se fosse venuto da me per chiedermi un primo appuntamento non sapeva bene come muoversi, era un uomo sposato, era anche il mio capo non aveva idea di come gestire la situazione io dall'altra parte mi trovavo in una situazione del tutto particolare quindi sicuramente c'è stata una sorta di manipolazione ma comunque sono riuscita a vedere anche la persona che c'era dietro tutto questo e quindi siamo riusciti ad andare oltre forse è un po' difficile da spiegare a parole, ha considerato anche il contesto ma credo di aver visto una parte di John che non ha visto nessun altro no, ti posso assicurare che si capisce tutto peraltro insomma era John Lennon per cui ragazze mie May, lo puoi raccontare? era diciamo più grande artista del Novecento probabilmente più rivoluzionario musicista del Novecento per cui anzi grazie di raccontarcelo tu cosa hai visto di John che nessun altro aveva visto secondo te? e secondo te lui ti ha amato? ti ha amato sul serio? come te lo ha dimostrato? so per certo che mi ha amato dopo la prima sera dopo la prima notte che abbiamo passato insieme mi ha telefonato il giorno dopo mi ha fatto andare nel suo ufficio e mi ha detto siediti voglio mostrarti una cosa e io ho detto sì bene e mi sono seduta appunto e ha tirato fuori la sua chitarra e ha scritto una canzone che parlava di me e io ero ancora una volta così stupita così scioccata perché non avrei mai pensato che John Lennon fosse potuto scrivere una canzone per me e la canzone si chiama Surprise Surprise Sweet Bird of Paradox e anche in uno dei suoi album e quindi ci sono stati tanti momenti in cui eravamo solo noi due momenti di condivisione cose che non hanno visto nessuno momenti privati ecco qua li vediamo intervistati da Gianni Biziak storica intervista del 1965 Beatles volete ripeterci i vostri nomi per favore? sì sì il mio è Paul John George Ringo e la vostra età? 21 anni 22 20 22 sentite ragazzi che cosa ci potete dire del vostro stile? come è nato? come ci siamo arrivati? non lo so non lo sappiamo veramente sono cose che possono capitare Gianni forse guardando i rock'n'roll quante lettere ricevete al giorno? dipende a volte mille lettere a volte nessuna e poi varie migliaia sì varie migliaia e poi ne riceviamo da ogni parte avete le segretarie? sì certo diverso ci sono necessarie la folla che vi circonda vi fa paura? siamo sempre circondati dalla folla la folla ci circonda? sì sì ma noi non noi la ignoriamo la folla quando la folla vuole linciarci noi la ignoriamo? no 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 non è vero noi parliamo con tutti ci incontriamo con tutti ogni volta che è possibile sì ogni volta che è possibile sì è così che sanno le cose Gianni durante la vostra relazione John incide Mind Games che è uno dei suoi album più belli nella cui copertina c'è diciamo il profilo di Yoko Ono e poi scrive Waltz and Bridges l'album successivo tu eri gelosa di Yoko? no no niente affatto non mi aspettavo questa relazione tra me e John quindi perché dovevo essere gelosa della loro relazione la copertina di Mind Games di cui abbiamo parlato è stata stampata prima ancora che ci conoscessimo e me lo aveva raccontato e mi ha detto non so perché ho creato questa immagine era una cosa che mi piaceva e quando stava scrivendo l'album ha detto non so perché mi sono allontanato da Yoko Ono e poi ha deciso di fare quella copertina di scegliere quell'immagine per la copertina e quindi è stata una cosa che è stata decisa in un momento diverso e peraltro poi in quel periodo insomma lui ha raccontato John raccontava anche di tossicodipendenza eroina alcolismo stava così male John? no questo è un altro mito perché sicuramente le cose non andavano male come tutti raccontano io non mi sono mai drogata io non bevevo non fumavo lui stesso non consumava questa grande quantità di droga era tutto molto semplice e anzi molti amici non credevano che io non fumassi e non bevessi e peraltro in quel periodo però c'è anche un periodo anche super creativo e c'è l'ultima volta che Paul McCartney e John Lennon suonano insieme avviene proprio quando c'era anche lei nella casa al mare di John a Santa Monica a Los Angeles c'erano anche David Bowie e Dalton John cosa accadde? Lasciate che vi dia qualche dettaglio in più perché sono molte storie che si incrociano c'è stata una jam session quella di cui stiamo parlando appunto dove abbiamo partecipato tutti e che è stata allo studio di registrazione dopo dopo aver lavorato per una notte all'album di Henry Nielsen poi sono arrivati per caso quella sera anche Paul e Linda McCartney e il giorno dopo sono venuti a trovarci in California in questa casa di Santa Monica per l'appunto per quanto riguarda David Bowie invece stiamo parlando di un momento diverso lo abbiamo incontrato nel corso di quell'anno ma in un altro momento e quando lui si trovava a New York è venuto anche lui a trovarci a Los Angeles e la persona che ci ha presentati Elizabeth Taylor anche questo è un altro elemento straordinario come dire esatto vai e poi ancora sì Elton John lo abbiamo conosciuto attraverso qualcuno che lavorava a una casa discografica in Inghilterra ed era Tommy King che era un grande amico di Elton John vendendoli insieme Paul e John erano ancora amici? quando si incontravano quella volta che li ho visti insieme era come se non fosse successo nulla è come se si vedessero tutti i giorni erano come fratelli e si chiedevano allora come stai come se si fossero visti il giorno prima non c'era ostilità non c'era astio erano contenti di vedersi allora racconti anche sempre in questo documentario alla quale diciamo Yoko Ono non ha preso parte di aver avuto un ruolo importante per ricucire Cinzia e il figlio Julian e poi dici anche che Yoko evitava passare a John evitava di passare a John le telefonate del suo figlio Julian cioè li teneva divisi teneva John diviso dal suo primo genito quando lavoravo per loro c'è stato un momento in cui non potevo passare le telefonate a John quelle telefonate a John e quindi appunto rimanevano senza risposta e per me era importante che John vedesse suo figlio perché era importante anche che suo figlio vedesse suo padre e quindi è per questo che sono orgogliosa del fatto che ho cercato di farli riavvicinare per quanto riguarda Cinzia so che non c'era stata una vera e propria chiusura dopo il divorzio e quindi gli è stata data l'occasione diciamo così di parlare delle loro emozioni dei loro sentimenti in quel momento ed è stata una cosa positiva perché così John non ha avuto più quella sensazione di ansia di pressione ogni volta che lei chiamava per parlare con John di Julian o di cose che avevano in comune si sentiva molto più a suo agio quando John se n'è andato lei ha sofferto tu hai sofferto May sì assolutamente molto è come quando c'è una rottura stiamo parlando sempre della prima persona che è stata così importante nella mia vita è una cosa molto difficile ed è anche più difficile nel mio caso perché a volte mi telefonava mi chiamava per dirmi vorrei vederti mi manchi quindi è stato tutto molto difficile e quando è morto anche noi non c'è stata una vera e propria chiusura non ne abbiamo avuto l'occasione e quindi io poi alla fine non ho avuto con lui la chiusura che ho permesso a lui di avere con altre persone a tutt'oggi sono molto triste per questo ma sono circondata anche dalla sua musica che mi dà conforto certo l'ultima cosa ma lui come ti disse guarda May torno da Yoko ciao come te l'ha detto quando è andato via mi ha detto che pensava fosse meglio che quella decisione fosse meglio anche per questioni di immigrazione perché ancora non aveva avuto la carta verde la green card e quindi sarebbe stato meglio per lui rimanere fisso in un posto perché non erano ufficialmente divorziati anche se avevano parlato di divorzio ma era una cosa che poi non si è realizzata e quindi per lui sarebbe stato meglio tornare da lei e tu hai detto hai raccontato che quando hai salutato Yoko l'ultima volta che vi siete viste tu le hai detto congratulazioni hai riavuto John dovresti essere felice e lei rispose felice non credo che lo sarò mai May ti ringraziamo e ti auguriamo tanta felicità a te sì grazie per essere stata con noi oggi grazie a voi grazie mille grazie davvero